Invecchiamento attivo, diversità, migrazioni, queste le tre parole chiave su cui ho lavorato nel corso dell'ultimo anno un gruppo di docenti del Dipartimento DIL, lingue, letterature, comunicazione, formazione e società dell'Ateneo di Udine. Le attività si sono sviluppate nell'ambito del progetto di Ateneo Alt-Failty e quindi nel contesto più generale delle azioni messe in campo dal gruppo di Ateneo sull'Active Aging. Nello specifico, queste attività si sono poi articolate all'interno di uno dei VP del progetto d'Ateneo e hanno costituito una parte del VP3, il VP dedicato agli aspetti legati all'apprendimento permanente, alla formazione degli adulti e nello stesso tempo alle narrazioni sull'invecchiamento e sull'ageismo. Tre parole appunto, invecchiamento, diversità, migrazioni. Parole chiave perché ci possono aiutare a leggere da una prospettiva inedita alcune trasformazioni in corso nel mondo di oggi. Il lavoro svolto ha permesso di decostruire e di provare a ricostruire alcune narrazioni e anche di tratteggiare qualche prospettiva di azione educativa, ma non solo educativa, nel tentativo di sottrarci o di provare a sottrarci ai vecchi e nuovi stereotipi legati all'età e ad altre caratteristiche della popolazione. Abbiamo organizzato due webinar in corso dell'anno che hanno affrontato da vari punti di vista i temi dei processi di invecchiamento nei territori ad alta complessità socioculturale e linguistica. Ci siamo soffermati dapprima sulle parole, sui contesti, sulle sfide che in questi territori emergono per l'educazione permanente e abbiamo poi approfondito in particolare alcune caratteristiche legate alla lingua, alle lingue, a come esse contribuiscono a costruire i quadri in cui poi si sviluppano le nostre riflessioni, le nostre azioni. E nello stesso tempo abbiamo anche cercato di mettere a fuoco quelle che sono le relazioni oggi tra le generazioni nei territori. Si tratta, nel caso dell'ambito di ricerca che collega i processi di invecchiamento alla diversità socioculturale e linguistica, di un ambito di ricerca che nel nostro paese è piuttosto recente ma che a livello internazionale già da tempo è al centro della ricerca proprio perché pone la sua attenzione su due questioni, l'invecchiamento della popolazione e i flussi migratori, che rappresentano altrettante sfide centrali per le nostre società. Per affrontare un percorso di questo tipo è stato necessario entrare in dialogo fra diverse discipline, sguardi che con tagli e strumenti diversi potessero contaminarsi, collegarsi e permetterci appunto di osservare trasformazioni e prospettive in esse. In particolar modo abbiamo avuto la possibilità di incrociare lo sguardo della linguistica, delle scienze sociali e delle scienze dell'educazione, nel tentativo appunto di far emergere tra parole, quadri sociali e azioni educative alcune possibili tipici di riferimento. Tre le principali piste che sono emerse in primis, si parlava appunto del tema delle parole, ecco è emersa l'importanza di restituire agli anziani anche con le parole, forse soprattutto a partire dalle parole, una vita che sia normale, non confinata, non rinchiusa dentro una serie di stereotipi e che provi partendo dal quotidiano ad offrire a tutti e a tutte le persone anziane la possibilità di offrire davvero il proprio contributo al bene collettivo. Nello stesso tempo, ed è una seconda pista di ricerca, si è trattato di osservare come invecchiamento e diversità, invecchiamento e migrazioni portino oggi all'intreccio di una pluralità di storia e relazioni sui territori. In realtà si tratta di storie che ci parlano anche di migrazione di ieri, oltre che di migrazione di oggi, e ci parlano del lavoro di cura, dell'attività di cura svolte dagli anziani e svolte con gli anziani e un focus su questa attività di cura, troppo spesso oggetto di poca considerazione della nostra cultura, ci può permettere di osservare meglio e riflettere in modo critico anche su alcuni aspetti della nostra vita di ogni giorno. In fine, una prospettiva educativa, un'educazione che provi ad essere permanente, interculturale, intergenerazionale, permanente in quanto si sviluppa lungo tutto l'arco della vita e in tutti i contesti della nostra vita quotidiana, ma nello stesso tempo interculturale, intergenerazionale, direi forse interculturale proprio perché è intergenerazionale e perché prova quindi a far dialogare, incontrare fra loro culture che non sono solamente le culture che fanno riferimento a esperienze e contesti diversi, ma fanno riferimento anche alle diverse generazioni. Il tentativo è quello di restituire uno sguardo non stereotipato sulla relazione educativa, entro la quale tutti e tutte, in primis le persone anziane, ma connesse ciascuno di noi, possano vivere tutti i diversi ruoli possibili, essere a un tempo maestri ed allievi, testimoni e, diciamo, apprendenti, nel tentativo di costruire insieme delle memorie dei progetti che possano essere nello stesso tempo plurali e comuni.